Ciao a tutti amici di UDAB, a Roma, ad Eternal City, la mostra dei motori. Ciao! E anche mio padre mi salta. E' una bella mostra, non so voi ma è una bellissima mostra. Dopo vi faccio vedere un paio di cose. Questa invece è dedicata alle auto americane d'epoca. Guardate che belle! Guardate un po' che figata! Guardate ad esempio questa qua, la Portoricano Car Club. Sembra... chi sembra? Ah, ma è vero! A Docazone di Cars. Qui invece abbiamo Flo e Ramon. Guardate, invece quale di queste tre assomiglia a Smoky, sempre nel mondo di Cars? Ciao a tutti da UDAB, ad Eternal City, alla mostra delle motociclette. Le motociclette e le altri motori con... Emanuele, l'altro pianeta Hi-Fi. E cosa fate voi? Noi realizziamo gli impianti audio che vedete sulle motociclette risposte. Ne sono tre, sono tre Harley Davidson. Il monitor alle tue spalle. Fa vedere tutti i lavori che abbiamo fatto in negozio sulle varie Harley Davidson. Che sono state comunque portate da nostri clienti e customizzate per quanto riguarda il sistema audio. Questi sono i nostri lavori. Potete controllare sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Instagram dell'altro pianeta Hi-Fi. Tutti i lavori che sono stati realizzati sono pubblicati. Potete vederli, mettere like alla nostra pagina e venirci a trovare il negozio a Roma a Pierico Perno. Perfetto! Grazie! Ciao ragazzi! Ciao!